ELEZIONI POLITICHE CONCERTO BENEFICO A LUME DI CANDELA NELL'AULA MAGNA DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO NISSENO SPORT-CALCIO NISSA ESONERATO L'ALLENATORE SETTINERI DOPO TRE PARTITE DI CAMPIONATO ALLE 23 DI IERI SERA I 56 SEGI DELLE SEZIONI SCRUTINATE A CALTANISSETTA SI SONO CHIUSI Il capoluogo che rientra nella circoscrizione Sicilia 1 che comprende le province di Palermo, Trapani e Grigento e Caltanissetta al collegio uninominale U04 e al collegio plurinominale P02 Ad esprimere il loro voto per le elezioni politiche di Camera e Senato sono stati il 55,7% dei nisseni pari solo a 26.550 dei 47.667 aventi diritto al voto. Il dato emerso dallo spoglio per Camera e Senato ha decretato la vittoria del centrodestra con Michela Brambrilla di Forza Italia e imprenditrice nata nella provincia di Lecco presente alla Camera dei Deputati dal 2018 premiata da 8.772 nisseni pari al 34% dei votanti in città. Ha ricevuto il 28,68% dei voti ovvero la preferenza di 7.192 nisseni d'Eda Lopignatone del Movimento 5 Stelle, avvocato di San Cataldo, membro già della Camera dei Deputati dal 2018. Il 18,11% dei voti è andato a Martina Riggi del PD, anche lei di San Cataldo, seguita da Giampiero Modaffari, ex sindaco di San Cataldo, che ha ottenuto il 10,2% delle preferenze della lista sud-chia-ma-nord di De Luca. Al Senato della Repubblica la scelta dei nisseni vede Stefania Craxi, ex sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, deputata dal 2006 al 2013. Dal 2018 la senatrice per Forza Italia traguarda il 36% dei voti, seguita dal gelese Pietro Lorefice, già nel Movimento 5 Stelle, e senatore della Repubblica Italiana dal 2018, con il 29,34% dei voti. Il 18,25% va invece alla Nissenex, vice sindaco di Caltanissetta, Marina Castiglione del PD. I dati dei collegioni nominali riconfermano il dato già avuto in città per Brambrilla, con 33.766 voti pari al 35,73% e per la Craxi, 96.453 voti pari al 37,69%. Resta comunque il dato degli astenuti a Caltanissetta per le elezioni politiche del 44,30%, che fa comprendere la posizione di 21.117 cittadini che hanno rinunciato ad esprimere il proprio voto. 5 persone, di cui 3 minorenni, sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di avere preso parte a una rissa in via Crispi, nel centro storico cittadino. Il fatto è avvenuto nella mattinata di domenica. A segnalare quanto stava accadendo ai carabinieri sono state alcune persone che hanno assistito alla scena. Subito dopo sul posto è arrivata una gazzella dei militari dell'arma, i quali hanno sorpreso i cinque protagonisti in negativo della vicenda. Gli investigatori li hanno identificati e denunciati a piede libero. Non è chiaro il motivo per cui gli indagati hanno iniziato a darsele di santa ragione. Saranno adesso le indagini a mettere insieme le tessere del mosaico. I poliziotti delle volanti hanno denunciato a piede libero in procura due diciottenni. Il primo per il furto aggravato di un motociclo e il secondo per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I due giovani sabato scorso sono rimasti coinvolti in due diversi incidenti stradali. Nel primo caso avvenuto nel pomeriggio di sabato uno dei due diciottenni è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. A soccorrelo l'equipaggio della volante di zona dopo che il controllo ha accertato che il ragazzo poco prima aveva rubato un motociclo parcheggiato per strada e dopo essersene impossessato ne ha perso il controllo finendo per terra. Gli agenti hanno sequestrato il mezzo e condotto il giovane in questure. Oltre alla denuncia penale i poliziotti hanno sanzionato il diciottenne per guida senza patente. Nel secondo caso avvenuto nella tarda serata di sabato l'altro diciottenne mentre era alla guida della propria autovettura è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un ciclomotore condotto da una ragazza. Il giovane è risultato positivo all'esame tossicologico per l'assunzione di cannabinoidi. Corone dall'oro, fiori, sorrisi e l'emozione di chi oggi ha tagliato il traguardo della laurea. Su che cosa hai svolto la tua tesi? Scuola, benessere, quindi promozione del benessere scolastico e del sostegno sociale. Ho condotto una ricerca nella scuola secondaria di primo grado. Proseguirò gli studi, scienze pedagogica. Bellissimo, un'emozione unica che solo chi la vive può saperlo, veramente un bel traguardo. Grande emozione quindi per 13 neolaureati in scienze della formazione e dell'educazione del corso universitario che Casa Famiglia Rosetta tiene a Caltanissette in affiliazione con la Pontificia Auxilium di Roma. Si conclude quindi così il quinto anno di questo corso che forma figure professionali qualificate in un ambito che offre possibilità di lavoro. Le figure in questione sono quella di educatore nei servizi socioeducativi, educatore nei servizi per l'infanzia. Aperte adesso le iscrizioni al nuovo anno accademico 2022-2023. Le lauree di oggi ci hanno fatto capire quanto il lavoro di questi tre anni sia stato proficuo ed efficace soprattutto nella formazione di figure professionali che per noi sono risorse fondamentali per il territorio, per la comunità. Le lauree di oggi, alcune molto innovative, hanno parlato di sviluppo sociale e di quanto sia importante la figura stessa. Le nuove lauree, i nuovi iscritti hanno la possibilità di scegliere due indirizzi, l'indirizzo socioeducativo e l'indirizzo per l'infanzia che appunto costruiscono profili che possono essere e trovare sbocchi occupazionali non soltanto nell'ambito della comunità, delle case alloggio, nelle comunità ma anche a livello di... possono trovare impiego negli asili nido, nei centri per l'infanzia e nei luoghi di assistenza e supporto alle famiglie. Saranno poi tre le tesi che verranno pubblicate nella collana universitaria della Fondazione Alessia. Sono 18.797 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 in tutta Italia, di cui 779 in Sicilia, in base all'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Andando ad analizzare i dati della provincia di Caltanissetta, si registrano 23 nuovi positivi al virus SARS-CoV-2. Tutti i pazienti sono in isolamento domiciliare. Nel dettaglio 8 sono di Caltanissetta, 6 di Gela, 5 di San Cataldo, 1 di Mussomeli, 1 di Niscemi, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Vallelunga Pratameno. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di Gela, mentre un paziente di San Cataldo è stato dimesso dalla stessa dergenza ordinaria. 15 le persone guarite dal Covid-19 nelle ultime 24 ore, 7 sono di Caltanissetta, 6 di Gela, 1 di Butera e 1 di Mussomeli. C'erano molti fedeli sabato pomeriggio 24 settembre nella chiesa di San Domenico, in attesa di poter ammirare da vicino le reliquie e gli oggetti appartenuti a San Pio da Pietralcina. Ci sono una sciarpa e un guanto e persino delle lettere del Santo tra i doni ricevuti dalla parrocchia. Durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 18 e 30 sono stati riposti vicino all'altare per la presentazione all'intera comunità parrocchiale. Sono presentate questa sera le reliquie e alcuni oggetti appartenenti a Padre Pio che ha donato ad un nisseno, Gaetano Santagati, scomparso a gennaio. I suoi collaboratori, i suoi amici hanno pensato di fare questo dono prezioso alla città di Caltanissetta, alla diocesi di Caltanissetta e di consegnarli alla nostra parrocchia. Dunque durante questa celebrazione della Messa viviamo questo momento di grande gioia, di grande festa, un'esperienza che ci aiuta nel nostro cammino di fede, di speranza e d'amore, riscoprendo l'interessante e bella figura di Padre Pio, ma anche la nostra chiamata alla comunione con il Signore. In tante realtà del nostro territorio, di tutta Italia e di tutto il mondo ci sono dei gruppi di preghiera, ci sono delle associazioni, delle realtà che richiamano la figura di Padre Pio e però ecco con Padre Pio insieme a Padre Pio fanno questo cammino di incontro al Signore e di sequela del Signore risorto. Nella suggestiva atmosfera dell'Aula Magna Leonardo Sciaccia del Consorzio Universitario di Caltanissetta, ieri sera si è svolto il concerto benefico delle Rotaract denominato Candle Night, concerto a lume di candele. Protagonista il musicista nisseno Corrado Sillitti, che si è esibito in una magica atmosfera illuminata dalla luce delle sole e candele. Il concerto, promosso dal Rotaract di Caltanissetta, presieduto da Deborah Gervasi, ha avuto come scopo quello di raccogliere dei fondi per l'acquisto di materiale scolastico da donare ai bambini delle case famiglia e riuscirli a seguire per l'intero anno didattico. Altro scopo benefico, l'acquisto di due defibrillatori da donare alla città di Caltanissetta. È una serata molto particolare, a quanto pare la prima volta in Sicilia che si organizza una Candle Night, un concerto di pianoforte al lume di candela. Quindi una serata particolare, naturalmente visto che si parla di Rotaract e si parla di giovani, quindi ho pensato a un repertorio un po' atipico per un concerto. Si spazierà infatti dalla musica classica, alla musica moderna, la musica che sentiamo tutti i giorni alla radio, rivista in chiave pianistica. Quindi sarà un concerto per tutti i gusti e tra l'altro il fine benefico di acquistare due defibrillatori da donare alla città di Caltanissetta mi ha spinto a dire a tutti i costi di sì e ad essere presente questa sera. Il Rotaract ha organizzato questa serata, grazie all'aiuto di Corrado Sillitti che si è prontato per questa causa, al fine di raccogliere fondi in modo da poter acquistare del materiale scolastico, visto che c'è l'inizio della scuola per i bambini delle case famiglie. Infatti questo evento sarà una staffetta con quelle che sono le operazioni che compieranno anche le altre commissioni del club, al fine per l'appunto di adottare, tra virgolette, dei bambini di una casa famiglia e riuscire a condurli durante l'anno dall'inizio della scuola fino alla fine nel realizzare i loro sogni e quindi a partire dall'acquisto del materiale scolastico per cercare di regalare anche una piccola gioia in più nell'inizio di questo percorso e pian piano puoi accompagnarli fino alla fine dell'anno. In una nota apparsa sulla pagina Facebook della Nissa, il club biancoscudato comunica di aver esonerato il tecnico Alessandro Settineri. Nel testo si legge che a Settineri va il ringraziamento per l'operato fin qui svolto e l'augurio di un proficuo lavoro in futuro e che nelle prossime ore sarà annunciato il nominativo del nuovo allenatore. L'esonero arriva dopo le prime tre partite del campionato di eccellenza. Finora la Nissa raccolto un solo punto frutto del pari casalingo con l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo al Palmintelli. In precedenza i biancoscudati erano usciti sconfitti dagli incontri esterni di Casteldaccia e Agrigento. Intanto è stato annunciato il tesseramento di Adama Abdullai Koulibaly, centrocampista francese proveniente dal Guspini, società dell'eccellenza sarda. La Nissa tornerà in campo domenica 2 ottobre contro la Parmonval per la quarta giornata di campionato. La notizia dell'esonero di Settineri ha suscitato sorprese e stupore tra i tifosi biancoscudati, molti dei quali sulla stessa pagina social della Nissa continuano a esprimere commenti di delusione per l'accaduto. Nel frattempo è già toto allenatore. La girandola di nomi, tra quelli noti e meno noti, potrebbe concludersi comunque a breve. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà ancora molta variabilità in diverse zone dell'Italia, ma soprattutto al centro-sud con la perturbazione che è già attraversato nel weekend il centro-nord e che ora appunto si muove verso le regioni meridionali. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, ecco questa estesa banda nuvolosa che appunto andrà a insistere principalmente nelle regioni centro-meridionali mentre al nord non mancheranno anche delle belle schierite. Come precipitazioni ancora acquazzoni e temporali possibili in molte zone del centro-sud con fenomeni localmente anche intensi nelle regioni meridionali peninsulari. Insomma, giornata cresca di essere piuttosto delicata al centro-sud, lo vediamo, con appunto ancora acquazzoni e temporali localmente di forte intensità, coinvolte anche le isole maggiori. Man mano che invece ci spostiamo verso nord, situazione migliore con schierite anche decise nelle regioni settentrionali. Al nord ha di conseguenza anche temperature in ripresa, ma anche al centro-sud il clima sarà abbastanza mite perché questa perturbazione è accompagnata da venti meridionali, attenzione però perché soffieranno sostenuti. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località vista la situazione, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, San Pio X, Via Napoleone-Colaianni Servizio notturno, Del Corso, Corso Vittorio Emanuele Servizio di Skazza Servizio di Trasera Aspre Ahora Sob Car Che Grazie a tutti.